confine tra il comune di napoli e il comune di pozzuoli via napoli bellissima passeggiata c'è anche qui un gattino che ovviamente si sposta al fine di mangiare qualche cosa e per il resto dobbiamo dire la verità sono le bellezze naturali cittadine queste qua che non vanno mai sottovalutate una sana passeggiata infatti riduce anche i livelli di stress e di cortisolo e ti fa distrarre apprezzare il luogo in cui vivi o i luoghi che visiti